Perché un docente dovrebbe scegliere di inserire la rilaborazione di contenuti all'interno del proprio corso? Non sarebbe poi così difficile trovare delle motivazioni valide, ad esempio per supportare l'apprendimento variando al tempo stesso la propria pratica didattica, oppure per ottenere un feedback sullo stato di avanzamento dell'apprendimento degli studenti e sull'efficacia dell'insegnamento, come anche per trarre nuovi spunti per la progettazione del corso e della sua valutazione. Ma quali potrebbero essere invece i come? Cioè come il docente può nella pratica sostenere gli studenti nel rilaborare efficacemente i contenuti? Come può approcciare la progettazione di questo evento di apprendimento e quali azioni può mettere in atto? Per riuscire a capirlo bisogna prima identificare il processo che sta alla base della rilaborazione dei contenuti. Immaginiamo un processo strutturato in quattro fasi. Per prima cosa lo studente comincia da una visione o rilettura di massima dei contenuti raccolti, così da cogliere l'argomento generale e individuarne il focus. Può poi concentrarsi su singoli concetti, i vari mattoncini che costituiscono i contenuti, per comprenderli e approfondirli se necessario. Con un ulteriore passaggio trasforma tutte le informazioni raccolte e rilaborate in un prodotto nuovo che descrive le idee principali e le loro relazioni. Infine, lo studente può passare alla revisione della propria rilaborazione, per verificare che quanto ha prodotto sia effettivamente la sintesi dei concetti principali e dei collegamenti che ha individuato. Un verbo a finale, insomma. Ora, partendo da questi step, come può il docente supportarli al meglio? Come abbiamo detto, nella prima fase lo studente inizia da una prima visione dei contenuti e dall'identificazione del focus, che guiderà poi tutto il processo di rilaborazione. Può essere quindi molto utile che sia il docente stesso a presentare il materiale, motivandone la scelta e fornendo la chiave di lettura. Oppure può suggerire una domanda focale a cui trovare una risposta o fornire l'elenco dei concetti principali da approfondire, accompagnando gli studenti con attività dedicate, ad esempio con una discussione guidata svolta online in modalità asincrona. Nella seconda fase del processo di rilaborazione, lo studente effettua il lavoro di analisi vera e proprio, identifica i concetti e li approfondisce per individuare i punti di contatto tra loro e tra le conoscenze pregresse già a sua disposizione. Allora, anche se in modo collaterale e il più delle volte implicito, la rilaborazione comporta anche un primo richiamo di conoscenze, il retrieval, e un'autovalutazione. Lo studente sarà infatti portato a chiedersi se, leggendo un determinato termine negli appunti, gli si accende una lampadina oppure se ne ha solo un vago ricordo e sarebbe quindi meglio rinfrescare la memoria. Di conseguenza, il docente può proporre, ad esempio, veloci quiz accompagnati da feedback che permettono, da una parte, il richiamo delle conoscenze utili e dall'altra, l'autovalutazione di quanto acquisito nella rilaborazione. Oppure, attività di roleplay in cui richiedere agli studenti di diventare esperti di una parte del contenuto da esporre alla classe. Insomma, il docente può sfruttare tutte quelle attività che stimolano lo studente ad approfondire le tematiche trattate e a ricercare collegamenti con il dominio di applicazione. La terza fase consente allo studente di passare alla pratica, di trasformare effettivamente il contenuto. È qui che seleziona gli elementi, le relazioni e le gerarchie per renderle altro, ma potrebbe essere un riassunto per punti o uno schema. Ma, a prescindere dal formato, il docente può agevolare questa fase utilizzando, ad esempio, il metodo dell'interrogativo elaborativo. In poche parole, per interrogativo elaborativo si intende il porre domande sul come e sul perché delle cose per poi guidare la formulazione di risposte. Quindi, attraverso il lavoro individuale o con i pari, il docente può spingere gli studenti a confrontare idee, strategie, metodi, processi diversi all'interno dello stesso argomento generale, stimolando ulteriormente la rielaborazione e la creazione di un nuovo significato. Come ultima fase del processo, lo studente arriva al wrap-up finale, alla revisione e sintesi conclusiva. Per guidare verso il risultato finale, il docente può fornire diverse tipologie di contenuto, esempi di lavori già svolti dagli studenti degli anni precedenti, oppure un wireframe, uno scheletro, da completare e approfondire con elementi e relazioni significative. Per concludere, l'output finale del processo di rielaborazione del contenuto racconta, in sintesi, il contenuto originario rielaborato sulla base delle esperienze e conoffenze di chi lo ha prodotto. Il docente può supportare gli studenti in questo processo in ogni sua fase o anche solo incentivarli a non tralasciare questo evento di apprendimento, fondamentale per un apprendimento significativo e duraturo. Come? La leva della valutazione risulta spesso efficace in questi termini, ma senza intaccare la struttura del corso, è possibile ricorrere anche ad altri mezzi. Ad esempio, il docente può puntare sull'orgoglio e la soddisfazione personale che uno studente può ricavare nel vedere riconosciuta la qualità del proprio lavoro. Così, un lavoro ben fatto potrebbe diventare un contenuto da condividere e discutere con tutta la classe e da utilizzare come esempio per gli anni successivi.